Lei dal 2011 legge le retini di quella che è una vera e propria Accademia della bellezza a Napoli. Perché scegliere Liliana Paduano oggi? Liliana Paduano oggi, scelta per la formazione, significa scegliere l'eccellenza. Noi da sempre, da 44 anni, da quando è stata fondata l'Accademia, prima da mia mamma e ora da me, abbiamo sempre gestito la formazione con altissima qualità, quindi curando la qualità della struttura, dei docenti, del progetto formativo, quindi anche il nostro metodo didattico, metodo ormai certificato da tantissimi anni. Noi siamo l'unica Accademia che garantisce anche l'inserimento lavorativo al 100% degli iscritti. Questo è molto importante perché comunque da sempre ci occupiamo non solo di formazione, ma anche nel dopo, quindi ci occupiamo proprio di collocare tutte le ragazze, tutte le allieve. Riteniamo, insomma, il nostro slogan è che il nostro lavoro finisce quando inizia il vostro. Che competenze di base devono avere gli allievi? Oggi abbiamo tante competenze richieste, proprio quello che fa la differenza rispetto ad altre scuole, ad altre accademie. Noi facciamo una formazione sia teorica che pratica molto approfondita. E qua facciamo la differenza, ovvero oggi dobbiamo essere competenti in cosmetologia, in dermatologia, in anatomia. Quindi non è solo fare una manualità, ma dobbiamo conoscere i macchinari, conoscere i cosmetici, conoscere il corpo umano, la dermatologia, che è la macchina più complessa che c'è al mondo, è proprio il corpo umano. Quindi se abbiamo una padronanza di tutti gli aspetti della dermatologia, alla cosmetologia, riusciamo a fare dei trattamenti, anche a proporre dei trattamenti e a consigliare. Se no, diversamente, abbiamo il paradosso che a volte le clienti ne sanno più di alcune. Avete migliaia ormai di dipendenti e di persone che studiano e lavorano da voi? Sì, abbiamo formato praticamente in questi 44 anni 10.000 operatori del settore che oggi lavorano tutti con successo. Quindi questa è la nostra più grande soddisfazione. Comunque quando formiamo una persona, ecco, la occupiamo, lavora con successo. Perché? Perché oggi chi punta la qualità, ecco, non sta mai un giorno senza lavorare. Perché comunque è una professione richiesta. E soprattutto oggi con l'avvento dell'intelligenza artificiale, dove tanti lavori a breve saranno sostituiti comunque dall'intelligenza artificiale. Oggi invece i lavori e servizi alla persona sono il presente e soprattutto il futuro. Ci sono anche possibilità per persone che non hanno la possibilità di pagare il corso, di accedere gratuitamente? Avete borse di studio, per esempio? Allora, abbiamo aderito già da un paio d'anni al progetto della Regione Campania dei corsi IFP, che significa istruzione e formazione professionale. Ovvero facciamo i quattro anni di diploma superiore. Quindi oggi siamo anche un istituto tecnico superiore, indirizzo estetico, indirizzo parrucchiere. E questo è totalmente gratuito, quindi è una cosa dove possono accedere tutti. Noi facciamo dei test di ammissione, ma semplicemente per valutare la motivazione, per valutare il curriculum scolastico, perché se è una scuola di qualità chiaramente ci teniamo a curare, ad avere degli allievi che siano in linea con il nostro target, che abbiano l'intenzione veramente di fare questa professione e di studiare. Si può diventare un esperto della bellezza anche da adulto dopo i 18 anni, insomma in età un po' più avanzata o no? O lei lo sconsiglia? No, tra l'altro oltre al programma IFP abbiamo anche il programma Goal, che è un'altra cosa in cui abbiamo aderito e che stiamo avendo persone anche di 55, di 60, di 40, insomma. Oggi anche questo è interamente gratuito, quindi è un altro programma che stiamo facendo per poter diventare truccatori, massaggiatori, tatuatori, insomma. Ed è una scuola professionale, quindi non ha il limite di età. Tra tanti c'è anche un master dedicato alle mestiere e al trucco per lo spettacolo. Sì, abbiamo un master in esclusiva, il master di effetti speciali cinematografici, è un master richiestissimo alla nostra accademia poiché crea i professionisti del mondo cinematografico del futuro. È un master a numero chiuso, proprio per garantire l'alta formazione dei nostri allievi e il master dove gli allievi ovviamente devono avere una formazione già di make-up, partono da zero per quanto riguarda il campo degli effetti speciali cinematografici fino ad arrivare a risultati incredibili. Da qualche mese è terminata la prima edizione di questo master e i risultati sono stati davvero strepitosi. Hanno creato delle creature meravigliose, una creatura dell'esorcista e vari mostri. E i mostri.